Funerali nella chiesa madre di Mussomeli per il giovane vittima dell'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16. Si tratta dell'operaio 29enne Roberto Arganello che è morto sul colpo a causa delle ferite riportate dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'incidente autonomo che pare sia stato causato da un ostacolo, una grossa pietra posizionata nella carreggiata di marcia in località Monticelli, direzione Acquaviva Platani-Mussomeli. Il conducente dell'auto, una Fiat Panda, pare non sia riuscita ad evitarla e colpendola con la ruota anteriore destra è stato costretto ad effettuare una repentina sterzata a sinistra occupando la corsia opposta ed andando a sbattere con la parte anteriore sinistra del mezzo contro un muro adiacente alla strada per poi continuare la corsa ribaltandosi più volte e fermandosi al centro della strada col mezzo ancora capovolto. Ad intervenire oltre al 118 i carabinieri della compagnia di Mussomeli, feriti un altro passeggero con ferite multiple alla regione Lombo Sacrale e sopracciglio destro, è il conducente del mezzo, neopatentato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, trasferiti al locale, ospeci Ives Maria Immacolata Longo. È una denuncia a piede libero e scattata per tre giovani per guida in stato di ebbrezza a Caltanisset. La compagnia dei carabinieri ha infatti intensificato i controlli durante il fine settimana per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, con l'obiettivo di sensibilizzare principalmente i giovani la fondamentale consapevolezza delle devastanti conseguenze che l'uso e l'abuso di queste sostanze possono provocare, soprattutto quando si è alla guida. Sottoposte a controllo numerose autovetture, circa 40 persone.